Sui treni, si va ad una gara? Quando? Come? Perché? Guardi, il contratto scade il 31 dicembre 2014, quindi la gara dovrà essere sperita, spero, entro il 2014, abbiamo eventualmente la possibilità di qualche mese di proroga. Lo facciamo in maniera molto chiara, stiamo redigendo un cronoprogramma in maniera tale che tutti i cittadini abbiano chiarezza rispetto ai tempi. Lei che obiettivo si porrebbe con questa gara? Si va ad una battaglia contro Trenitalia, si apre ad altri concessionari, si punta ad un mercato anche dell'area del nord? Guardi, io battaglia non ne faccio contro nessuno, dico semplicemente che per quel che mi riguarda, siccome sarà un capitolato che dovrò votare e sottoscrivere, i treni dovranno essere puntuali, puliti, non sovraffollati e confortevoli, quindi caldi d'inverno e freschi d'estate. E Trenitalia su questo come replica? C'è una battaglia contro Trenitalia alla vostra a questo punto o no? Guardi, io non generalizzo, dico che per alcuni aspetti, per alcune corse, non tutti questi parametri sono rispettati. Abbiamo a volte dei treni sovraffollati, a volte dei cittadini restano a piedi, a volte dei treni sono in ritardo e noi questo non lo possiamo accettare. Intanto, fino a che non si arriva alla gara, si andrà ad un contenzioso aperto sempre su queste questioni? Beh, abbiamo un contratto che è pagato con i soldi delle tasse dei Veneti, per cui nel contratto si è sempre in due, noi e Trenitalia, quindi finché il contratto non sarà scaduto controlleremo fino in fondo ogni punto previsto dal contratto. Il tavolo a Palazzo Chigi non c'era, non c'è, il 20 gennaio non c'è il tavolo e mi spiace, anche perché sono passati più di due mesi, forse due mesi e mezzo, stiamo parlando di lavoratori che rischiano di perdere il loro posto di lavoro, stiamo parlando di una multinazionale, stiamo parlando di un governo che dovrebbe trattare Electrolux e questa vicenda come Alitalia, Ilva e altre partite tipo la Fiat che ritengono molto più importanti, ma per noi non lo sono. In un paese civile quando tu guadagni paghi le tasse, non fai nero, ma una volta pagate le tasse poi dei soldi puliti che ti restano in tasca, in teoria dovresti fare quello che vuoi, in Italia no, finché hai i soldi in tasca c'è sempre qualcuno che ti insegue per farti pagare qualcosa. Io ho incontrato il prefetto questa mattina, le ho augurato buon lavoro, mi sembra un prefetto sul pezzo, un prefetto che ha molto chiaro anche il tema dell'ordine pubblico, certo è che l'ordine pubblico nasce da sinergie importanti tra le forze di polizia, il coordinamento del prefetto, ma soprattutto voglio ricordarlo fino in fondo anche della necessità che le amministrazioni comunali in generale pratichino quegli accorgimenti, che sono quelli dell'illuminazione, della videosorveglianza, che è quello di controllare i documenti degli immigrati quando ciondolano e non vanno a lavorare nelle ore in cui si lavora e girano magari per le città, per i giardinetti pubblici. Questo è quello che significa sicurezza. Al di là dello stesso piano casa, i sindaci delle grandi città del Veneto hanno deciso che continueranno a vedersi per decidere di trasporti, eccetera. Beh, è un'attività sacrosanta, il coordinamento poi vuol dire efficienza, vuol dire economia di scala. E direi che ben venga questo anche perché mettere insieme molti servizi tra le amministrazioni comunali significa essere anche all'avanguardia, pensi solo al tema di trasporto pubblico locale, a quello che sono molti servizi, le polizie municipali, piuttosto che i consorzi di tutela del territorio, i rifiuti, tutte queste partite che hanno assolutamente valenza molto spesso sovracomunale. Quindi non è un'alleanza contro la regione? No, guardi, se qualcuno si allea contro qualcun altro è un imbecille perché poi di mezzo ci sono i cittadini che devono avere servizi.